Non ne idea, sinceramente come faccia a dirlo, questa è una curiosità che passato il balottaggio magari cercheremo di scoprire. Io penso che i cittadini debbano valutare il valore dei candidati che hanno davanti perché si decide chi governerà la loro città. Tutti questi ragionamenti a me paiono fuori dal tempo e forse anche fuori da quella che è la realtà concreta che accadrà, ma ognuno è libero di esprimere delle opinioni. Io sinceramente non ho idea per chi voterà nessuno.